Allora, ora, questo... questa fornace, fornace, fornace molto figheis, la mettiamo qui, guarda che figa la texture! Allora, la mettiamo là e ci mettiamo il ferro, eccolo qua, allora, ci mettiamo due pezzettini, così, perfetto, intanto noi ci facciamo altre torce perché le abbiamo finite, ci facciamo un bel po' di sticchini perché tanto abbiamo legno in abbondanza, eh, ho esagerato, vabbè, ci mettiamo tipo la metà di questi stick, così, 22, no, 22 sono troppi, facciamo tipo 11, ok, poi ci mettiamo questo qua, ok, 52 torce, voglia, voglia, ora, col ferro che si sta per cuoce, dai, l'ultimo pezzettino, ci facciamo il bel piquan in ferro, Dai, dai, l'ultimo pezzo, su, dai, non fare storia, perfetto, dai, dai, dacciolo, ok, grandissimo! Abbiamo tre pezzi di ferro, ci facciamo il nostro primo piccone in ferro, che poi sicuramente, ragazzi, lo troveremo nelle prossime isole, eh, però io vi sto facendo tutti questi materiali perché non voglio perdere tempo, voglio subito prendere sto diamante e poi iniziamo a esplorare già in questo episodio. Comunque, qua, il grano sta nascendo, quindi, ditemi nei commenti, appunto, se volete che vi metta difficoltà per giocare, appunto, in facile, difficile, non so, decidete voi, visto che nella mappa non lo dice, appunto, non l'ha cambiato, quindi ditemi voi e io lo faccio perché se no così è troppo facile, ragazzi. Comunque, qui ci sono due diamanti, perfetto, solo due, io ne avevo visti quattro, comunque, piccolo fail. Ora, risaliamo da qua, prendiamoci il pietrisco perché non voglio sprecare la neve, perché potrei farci anche la... ah, a proposito, la casetta, ragazzi, ditemi voi come farla perché io non ne ho la minima idea, quindi magari se mi date qualche consiglio, io vi metto e vi faccio la casa molto figa. Poi, di qui c'è un'uscita che, a proposito, io sono andato di qua a esplorare, eh, qui perché l'acqua non si ghiaccia, ho controllato, sono sceso qui sotto, intanto qui c'è una farm di sacco di inchiostro infinito, tipo ne ho prese 56 nella cesta, sa che brutti sti squid. Eh, qui c'è il portale del land, come vedete, però, per attivarlo, come ben sapete, abbiamo bisogno del... degli occhi del land, là, non mi ricordo ora come si chiamano. E qui c'è scritto che se il portale del land, appunto, non si attiva, dobbiamo premere il bottone, il bottone, sì, vabbè, è bellissimo, il bottone, quindi non potremmo creare la mappa e premere lo stesso, anche se non abbiamo gli occhi del land, credo, eh, poi, vabbè, questa qui sarà l'ultima cosa che facciamo. E, eh, nei prossimi episodi, ragazzi, se siete curiosi, andiamo anche ad esplorare quella, eh, cosa lì, che nello scorso episodio siamo andati ad esplorarla, però sono morto perché l'acqua si è ghiacciata e quindi iniziano i primi fail in questa mappa. Ora, risaliamo subito perché devo andare a prendere i diamanti, se magari acqua, grazie, mi fa esalire, eh, che con questa amazing DLC sword qua vi faccia il culo, eh, ora posso mettere pure la difficoltà in difficile e vi apro lo stesso liani, eh, che vi pensate? Che io sono così facile da abbattere, eh, ma dove stiamo? Comunque io qua sono uscito e grazie a queste liane ho scoperto, sono riuscito a creare un altro pezzo di mappa perché io sono troppo forte e guarda qua che cazzo ho trovato, sono sbucato tipo di qua scavando dal portale del neder, E ho trovato questa cazzo ho detto, vabbè, che volete che ci mettano degli inutili materiali? Invece no! Abbiamo Chains of Protection con protezione 4 e Spine 3, cioè, cioè, sono troppo forte, troppo forte! Anche se di pelle, credo, no, no, questa è di Chainsy, quella tutta buchierellata, ora non so come spiegarvi, ed è tipo quella prima del ferro, se non sbaglio, che vi droppano solamente con gli scheletri, ve la possono droppare, se non sbaglio, sì. Eh, lì comunque c'è la pozza di lava che vi ho fatto vedere, qui ho visto un altro pezzo qui della montagna e quindi ho detto, vabbè, andiamo ad esplorarlo. Scavo due o tre cubetti e trovo il diamante, cioè, ditemi voi se non sono un hacker di questa cazzo di mappa, cioè, dammi tutti i diamanti, amico, eh, dammeli tutti. Ok, credevo di venire trovati di più, ne ho trovati solamente quattro, però io il piccone in diamante me lo faccio, perché quest, su questa mappa, non ne ho viste, no, quindi non so se, tipo, il diamante serve per fare qualcos'altro, non ne ho la più palidea. Comunque, io salgo di qua perché ho trovato, tipo, una scarciatoia, continuando a scavare, ah sì, ho trovato anche smeraldi, me ne ero completamente dimenticato. Ora non so se durante la mappa noi troviamo, tipo, non lo so, un villager con cui scambiare, io spero di sì, perché qui ne abbiamo trovati un bel po', vediamo quanti sono. E otto a voglia, voglia. Comunque di qua, continuando a scavare, sono risalito, appunto, nella mia cazzo di base overpower, ed eccoci qua. Ora, io mi faccio subito il piccone in diamante, poi ragazzi, se serve altro diamante, andremo a trovarlo nelle prossime isole, io il piccone in diamante me l'ho fatto, sbam, e voglio andare a vedere subito, 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 cosa cazzo c'è sotto a questo blocco di ossidiano. Non vedo allora, ragazzi, io spero, visto che ci hanno messo questo blocco, di trovare, io ne so, un'armatura super forte, spero, perché se no ci rimango veramente male, e non poco. Dai, 3, 2, 1, io non l'ho mai aperto, diamo un po' cosa c'è, bam! Minchia. Ho detto io che trovavamo delle cose forti, ho detto io che trovavamo delle cose forti. Subito, full armor, perfetto, e questo qui però naturalmente è più forte, è la corazza di maglia, e quindi, a posto. In che aspetto di fuoco 2 abbiamo spine 3, infinità 1, affilatezza 4, e saccheggio 3. Ragazzi, credo che le metterò tutta questa spada di diamante, comunque non so, ditevi voi, magari consigliatemi voi, perché sono indeciso, visto che abbiamo trovato anche la Envil sotto, per fare appunto tutte queste cose fighe, io comunque ora lascio tutti i materiali qua, perché non ho la minima intenzione di pederli, ma manco per l'anticamera, voi non capite, no? Stiamo scherzando, qui non voglio pederli, neanche è morto. Il piccone di diamante lo lasciamo qui, e noi partiamo all'avventura in questo modo, perfetto. Le torci ce le abbiamo, la neve anche per spostarci, ok. Cioè, mettiamo anche un altro stack di biodrisco, perché, fotte sega, comunque, il libro infinità 1 lo applicheremo a un arco, perché gli arco e un infinità 1 sono overpower. Poi, affilatezza 5, questa spada, no, c'è solamente anatema, io credo di applicargli anche l'aspetto di fuoco, perché è figo, eh, anche saccheggio, e diventerà la spada più forte del gioco, sicuramente, comunque, ditemi perché, se lo volete, lo applicherò subito, nel prossimo episodio, a questa spada. Ora, qui io avevo visto, anzi no, abbiamo preso un bel po' di ferro, vero? Quindi io, mi va, no, no, ho fatto la cazzata, ho fatto la cazzata, ecco, ho fatto la cazzata, lo sapevo io, lo sapevo io. Comunque, ragazzi, ora faccio un piccolo taglio, perché, ora, se no, vi annoierò finché risalgo. Quindi mi faccio un bel secchiello, eh, inizio a fare la via per quell'isoletta, e poi ci ribecchiamo più tardi. A dopo. Ok, ragazzi, io non so com'è che faccio questi fail, forse perché, tipo, non so, tengo problemi con il tasto shift di questa mia tastiera di merda, ormai. Però, vabbè, dai, ce la si fa. Ecco, di nuovo, ma non è possibile, ma non mi sta funzionando lo shift, ragazzi. Non mi sta funzionando, non so com'è che cazzo che cado sempre da quel blocco, e vabbè. Ma questa qua è blasfemia, e guardate. Ah, è vero, perché con la neve il tasto shift non funziona. Ma sono un coglione, allora, ma vaffanculo, vanno andate in affanculo, allora, ci ribecchiamo di nuovo sopra. Ok, ora basta, ragazzi, e lo tengo già premuto da mo' il tasto shift perché basta, non ho intenzione veramente di failare più. Basta, mi sono rotto i coglioni. Allora, ora il ponte lo faccio uno per uno, di blocchi, appunto. Poi lo spanderò a tre perché non ho intenzione più di cadere una volta che faccio questo ponte. Io continuo a mettere torce, ragazzi, anche se so che non spawneranno più mob. Però, se voi volete, appunto, che io metta la difficoltà in, no, in facile, non so, media, difficile, come volete voi, insomma, ragazzi. Io ho bisogno, appunto, di mettere torce perché non devono più spawnare mob su questi ponti. Allora, io ci ho messo qui subito una torcia perché non voglio che si sciolga, appunto, che si ghiaccia, scusate, perché se no non salgo più. E ora direi di scendere, perfetto. Allora, intanto, quando sono in queste situazioni, il mio caro Minecraft lagga perché è deficiente. Perfetto, allora, circoliamo di torce qui. Poi, ragazzi, off camera, io continuerò a esplorare anche in basso, come ho fatto nell'isola dove sono spawnato quest'isola. Eh, perché non ho intenzione di perdermi, appunto, tesori, come poteva succedere nella mia isola. Quindi, da qui, così che dice. E io sono free teens. E sinceri, Santa Claus. Ok. Io spieghi a trovare qualcosa di figo perché se no posso uccidere qualcuno, eh. Apriamo qua. Eh, ma che cazzo, solo pietra rossa mi vuoi dire. 34 pietra rossa. Che cazzo mi faccio io con 34 pietra rossa? Però, vabbè, scialla. Andiamo qua. Questa, quest'isola si espande anche in verticale, quindi io non vorrei che, tipo, nascondesse qualcosa di figo. Vediamo un po'. Perché sarebbe brutto se, tipo, non riesco a scoprire tutti i disori che può celare questa mappa super figa. Quindi, vediamo un po'. Poi magari risalgo dopo. Vediamo, perché ci dovrebbe essere, tipo, qualche cesto nascosta, no? Niente, niente di che, no? Niente. Qui c'è acqua, tipo. Oh, eh, eh, ho detto io, ragazzi, che cazzo è questo? È un blocco di diamante? E ho detto, ragazzi, in queste mappe bisogna sempre esplorare. Questo è un cazzo di blocco di diamante, se questa texture non mi frega. Oddio, un po'? Ho il piccolo di ferro, quindi si deve rompere. È un blocco di diamante, raga. Abbiamo 9 diamanti, così, proprio free, proprio free. Ed è per questo, ragazzi, che a me piacciono queste mappe. Perché se tu non vai a girare, non trovi tesori, cazzo. Figa. Ce l'abbiamo fatta, figa, zio. In me l'annese vengono, eh, zio. Quindi, ragazzi, voglio i big like per questi episodi, ragazzi. Li voglio subito. Cioè, dai qua, che cazzo, io ho trovato un blocco di diamante. E penso che per questa isola, penso sia tutto. Perché dopo un blocco di diamante non penso che ti possano regalare di più. Ma infatti non ci potevano lasciare, tipo, a bocca vuota con questo schifo di resto. Non ci dovevano dare qualcosa di figo. E cazzo, un blocco di diamante, dimmi te, se non è figo. Quindi, ora, risaliamo, ragazzi. E credo che per questo episodio sia tutto. Perché, diciamo, abbiamo esplorato quest'isola. Anzi, io voglio andare a vedere lì. Che cazzo c'è? Aspettate che faccio, tipo, il salto della fede. Uno, due. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Spegniamo qui. Vediamo se ci nasconde qualcosa. Ehi, cosa vuoi fare, te? Mi vuoi mettere fuoco, eh? Assassino. Perché mi sembra strano che non ci sia niente neanche qui. Secondo me c'è nascosto qualcosa. Sicuro. Questi qua sono tipo la netherrack, se non sbaglio. Fai vedere. Sì, netherrack. No, ci fa vedere solamente l'interno dell'isola. No, non c'è niente di speciale. Peccato, raga, peccato. Se io rompo questo, tipo... Qua c'è pietra luce. E io me la metto dentro casa, la pietra luce. Eh, figa. Dici che la lascio qua. Stai scherzando, spero. Allora, griffiamo un po' la mappa, raga. Perché non abbiamo niente da fare noi, hai capito? Quindi noi ci dobbiamo divertire in questo modo. Allora, rompi qua, veloce, saliamo. Chiudi qua. Perché non vogliamo rovinare questa mappa. Quindi rimetti la netherrack. Perché noi siamo dei griffer per bene. Non vogliamo trovare solamente le cose buone. Non vogliamo rovinare le mappe altrui. Quindi rimetti qua. Ok. E ce ne possiamo andare. Dove è la mia acqua? Perfetto, andiamoci. Questa, questa isoletta non cela più segreti. E noi siamo liberi di andarcene a casa nostra. Quindi ragazzi, questo episodio è giunto alla fine. Lasciate tanti like e tanti commenti qui sotto. Dandomi consigli. Non so, quello che volete. Là intanto c'è altro carbone. Credo che andrò a prenderlo. Se magari mi scherzeggerà. Quindi condividete con i vostri amici questo video. Se vi è piaciuto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale. Se non siete ancora iscritti appunto perché arriveranno tanti bellissimi video. Quindi detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, tanti ben mi piace per farmi capire che questa sera vi piace. Io vi porterò tanti e più episodi possibili al giorno. Quindi ciao ciao.